Alla seconda domanda la risposta è no. La Commissione non ha nessuna intenzione di massacrare nessuno, tantomeno. Sulla prima domanda, nelle nostre raccomandazioni ci sono sei parole che posso anche leggere e aggiornare i valori catastali ai valori attuali di mercato. Penso che questo non rappresenti né una richiesta di aumento delle tasse o di reintroduzione di tasse nella prima casa, ma rappresenti una necessità per l'Italia di cui penso il Governo italiano sia pienamente consapevole e infatti sta preparando misure in questa direzione.